bene amici video straveloce oggi vi faccio vedere un giro guardate che roba un giro del mio protocollo vedete bellina vero queste sono le mie medicine tutti estratti naturali adesso recitiamo uno per uno allora curcuma estratto di curcuma vitamina k vitamina k e strato di 14 erbe e altro strato di 14 erbe domoflog vitamina d3 coenzima q10 cumino nero tarassacco estratto di carciofo tarassacco e curcuma cardo mariano questa non me la ricordo mi sa che se non sbaglio questa ancora tarassacco guala amici questo è il mio protocollo questo è il giro delle vitamine e degli protettori ore 3 30 sto per incontrare delle amiche mi sono venuto a trovare e qua va tutto bene sono stato seminario poi della terapia gerson gerson poi ve la racconto prossimamente io sono in forma splendida oggi c'è il sole siamo belli e ho sistemato i capelli vedete come sono belli tutto carinino sono abbastanza amante col protocollo succhi verdi li ho fatti il giro direttamente protettore l'ho fatto adesso incontro le mie amiche andiamo a fare una passeggiata in centro così lo sgambo un pochettino gli faccio vedere la città poi andiamo insieme a macro librarsi andiamo a comprarci due verdurine così facciamo un estratto insieme poi mangiamo insieme e viva la vita dai viva la vita siamo contenti andiamo avanti il 29 si avvicina si avvicina sempre più vicino il 29 sempre più vicino ciao ragazzi è stato bello dai oggi non ho niente da dire sono cose più importanti da fare video veloce così vi volevo solo fare vedere quanto quante robe butto giù giusto perché la gente deve capire no dovete capire un pochettino qual è l'essenza vera del mio protocollo senza 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 strumentalizzazioni vabbè stato bello diamo diamo totalmente perché l'amore vince sempre è una forza da forzano forse è una forza l'amore che genio sono stato quando sento di scegliere l'amore il sistema immunitario geniale sono stato geniale baci www.carcinomiaepatico.it sito fantastico pieno di informazioni per la mia patologia e non solo questo c'è anche un video per dare degli spunti a le persone che sono tantissimi che mi chiedono suggerimenti su come cambiare l'alimentazione faremo anche questo video qui facciamo tutto ragazzi tutto facciamo tanto siamo in forma splendida ciao